ciao a tutti da me e dal rosettino molto bene allora visto che lo scopriamo usciva proprio ed esce proprio ed è uscito proprio il giorno di san valentino ho deciso di fare questo video speciale per san valentino e cosa fare se non 150 milioni di cuori come potete vedere sono quasi tutti i cuori a parte ovviamente le cacchine perché le cacchine non possono mancare nemmeno a san valentino ricordiamoci questa cosa importantissima e in più ho fatto due orsetti perché gli orsetti ci stanno questa tartarughina perché è dentro i cuoricini questo unicorno perché c'è il cuore la spila di sailor moon perché ha forma di cuore e poi un po di cuori sarà il video dei cuori però essendo che sarebbero stati tutti i cuori e qui ci siamo mi stavo un attimo perdendo scusate stavo pensando a come dire la cosa che devo dire vedete che sono tutte con l'effetto strano perché vi ricordate nello scopriamo dal beige ho scoperto quel beige bellissimo che dava un effetto bellissimo quindi ho provato a farlo praticamente in tutte le creazioni chi più chi meno quindi sono molto curiosa di vedere quindi basta parlare cominciamo subito a scoprire perché sono qua non finiamo più molto bene allora qui abbiamo un cuore sono passati un po di giorni quindi adesso non so sinceramente come le ho fatte quindi sarà una sorpresa anche per me che vuole essere roba è bellissimo è stupendo siamo partiti subito stupendamente peccato per che ha per peccato che perché ha questa parte qua questa parte qua non so che cos'è e poi tutto il resto così ma che bella mi piace un sacco questa parte qua oh siamo partiti subito wow 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 e ora scopriamo questa qui allora questa invece dovrebbe essere quella sui toni del rosa questa sui toni del rosso wow l'effetto che piace un sacco ma guarda io non so come si fanno a fare queste cose no queste cose ma escono solo quando faccio le cose a caso se io dovessi fare una cosa fatta così apposta non mi uscirebbe ma neanche a pagarla che sciccheri di creazione che sciccheri molto bella oh per il momento mi piacciono un sacco tutte e due poi allora ce ne sono un sacco quindi abbiamo visto una rossa una fucsa e vediamo una che punta sull'arancione penso che sia questa qua allora sì e questo però è uno stampo opaco come possiamo vedere è un cuore ma l'avevamo già ben capito molto bello anche questo molto molto ma cosa c'è qui ok ah sì perché avevo messo in questo colore qua dei glitter e infatti tutti questi puntini che non mette a fuoco io sto chiedendo al mio telefono di mettere a fuoco quei glitterini ok bellissimo bellissimo molto molto bello tutte queste righine qua che sciccheri poi vediamo questo adesso li prendo a caso perché non c'ho voglia di sceglierli allora vediamo wow wow non so che altro dire se non wow guardate qua tutti gli effetti che si sono formati wow sono rimasta incandata da questa veramente wow wow per il momento questa è la più bella che nebbia scopriamo subito un'altra questo invece ho utilizzato questo colore ok che ha un sacco di glitter c'è il mio telefono che non sta mettendo un tubo a fuoco nemmeno oggi non ne posso più aspettate un attimo proviamo così perché se no impazzisco allora bellissimo guardate che sciccherino ovviamente qua essendoci dietro è stupendo però è appunto essendoci stati glitter e in questo fu questo colore che non sa che cavolo di colore sia ho messo davvero tanti glitter e si sono depositati ovviamente tutti sul fondo era normale che uscisse così ma che sciccheri molto molto bello questo dovrebbe piacere un sacco a giorgio perché è super super glitterato molto molto bene bellissimo perfetto poi direi di scoprire un orsetto essendo che sono due incominciamo a scoprire almeno uno sentite nello stampo un botto di tempo cercate di uscire ok o perché non siete molti mollini forza oh 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 vedo già del della sciccherina vedo già della sciccherina wow no vabbè vabbè cosa vi devo dire io per questo orsetto uno degli orsetti più belli mai fatti di sempre secondo me non vi so dire i mixi che ho fatto perché non me li ricordo qualcosa appunto si vede però avevo fatto tipo un fucsia un pink più chiaro uno più scuro che glitte un rosso più chiaro un rosso con i grumini ho cercato di fare magari sempre dello stesso colore però con vari pigmenti diverse sfumature diverse molto bene passiamo alla spilla di sailor moon a forma ovviamente di cuore di cuore 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 nooo sto amandogli queste creazioni qui cioè almeno a me questo effetto qua piace tantissimo mi sono divertita un sacco a farlo spero che piacciono anche a voi wow wow anche questo qua la combo beige e rosso sta dando un sacco di soddisfazioni non riesco nemmeno a parlare quasi e ora vediamolo con questo cosa c'avrà dentro vedo il pink che mi è caduta vediamo molto bella anche questa molto bella molto molto bella qua ci sono tutti qua dentro che mi ricorda il ciupa ciupa quello panna e fragola wow che sciccherina che bellissima poi vediamo questo vediamo un po' qua che cavolo c'è dentro cos'è questa roba vediamo ci sono dei peli wow no vabbè io mi sto gasando infinitamente non riesco a parlare porcaccia guardate che sciccheri guardate che sciccheri che sciccheri che sciccheri che sciccheri qua c'è la parte più chiara qua c'è la parte non riesco a mettere nemmeno a fuoco ci sono troppi dettagli non ce la fa ok guardate che bello qua no vabbè sono troppo esaltati il video si chiamerà no vabbè no vabbè cosa facciamo la scopriamo una cacchina lo facciamo o non lo facciamo lo facciamo o non lo facciamo pomettino si pomettino ha detto di si pomettino scopriamo quella fucsia o quella rossa pomettino ha scelto di scoprire quella fucsia e noi lo ascoltiamo perché non si può dire di no a pomettino molto bene e cosa io vi devo dire prima tutta mettiamo guardate c'è wow 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 sapete cosa ve lo devo fare un video che facciamo questa cosa qua insieme ok e volete vedere che non mi uscirà perché vi sto facendo vedere come farla io voglio farla intenzionalmente e non mi esce io ve lo dico io ve lo dico ma wow 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 che bella che bella fatemi sapere se volete che faccio un video che proviamo a fare appunto questa cosa insieme e vediamo se escono o non escono perché qua non si sa mai prossimo cuoricino questo qui sembra puntare più sull'arancione o sull'osso non lo so scopriamolo ok qua si è besciato di brutto besciato cosa vuol dire besciato però qua dietro è bellissima e qua davanti è molto molto bella ok super liscia wow che scicchierina molto molto bella mi piace pur non avendo l'effetto che abbiamo appunto visto come potete vedere a volte esce a volte invece ma dipende anche come l'ho fatta ma non mi ricordo quindi andiamo avanti allora fatemi un po capire che cosa è rimasto perché non ci sto capendo niente la tartaruga l'orsettino l'unicorno due cuori e una cacchina questa cacchina la lasciamo alla fine molto bene respiro e guardiamo questo vediamolo un po allora tic e tic e tic wow wow qua ha vinto proprio l'esplosione di glitter perché qua ho usato due pigmenti che avevano i glitter questa specie di fucsia lilla ma che cavolo di colore è e poi quell'arancione che ho messo anche dentro un po' di gold più i glitter e poi comunque l'effetto si è formato pur essendo appunto due glitter due pigmenti molto glitterosi ma è bellissimo questo cuore è bellissimo e dietro è ancora bellissimo cioè è bellissimo se da una parte che dall'altra adoro questa cosa poi vediamo l'unicornino qua penso di averlo fatto fucsia chiamiamolo fu no non è fucsia ma che cavolo di colore è io non lo so ok anche qui ha vinto ovviamente il glitter però dietro avete visto che l'avevo messo dappertutto però sono contenta che qua sotto si vede leggermente un po' vedete molto anche dentro si vede molto molto bello molto molto bene poi facciamo la tartarughina che non ho ancora pulito lo stampo e penso che non lo farò mai ok qua sono un po' uscita perché non è perfettamente dritto questo stampino ok questa è ufficialmente una giuggiola è una caramella ok è una caramella perché se voi prendete un pacchetto di caramelle vi capiterà una caramella fatta esattamente così ok wow nel video di san valentino con dolci dolcetti cacchine c'è di tutto ci sta benissimo anche questa che bella però aperto gli scherzi molto molto bella poi mancano uno due tre facciamo l'orsettino ho provato a fare l'effetto anche nell'orsettino ma proprio con una goccina così così quindi boh poi questo orsetto non so nemmeno se uscirà vediamo dobbiamo fargli fare un po' di crocchi porcaccia porcaccia che male fa malissimo da questo stampo questo stampo ci sta abbandonando però dammi il mio orsetto ok ufficialmente questo stampo oggi ci lascerà sì salutiamo tutti questo stampo sì non c'è dubbio grazie stampo per bellissimi orsettini che ci hai dato per le bellissime creazioni che ci hai fatto scoprire grazie mille del tuo servizio si dice così ma che cavolo del suo servizio ma che ne so grazie mille mi hai dato un orsetto devo dire stupendo ok come ultima creazione mi hai dato un orsetto stupendo quindi grazie mille grazie di tutto salutiamo tutti questo stampo molto bene e adesso dedichiamoci alla creazione un po' piena di stampo però devo dire bellissima sembra un cioccolatino questa un ciocco cioccolatino molto bene ora tac 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 abbiamo il cuore e la cacchina partiamo dal cuore e poi facciamo la cacchina questa essendo che non ho coperto la pietruzza vuol dire che è l'ultima che ho fatto praticamente con quello che mi era rimasto nei bicchieri wow molto molto bella veramente ho le mani distrutte mi ha distrutto guarda quale roba ma porca ho le mani distrutte poi adesso anche qui no wow 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 e per finire fatemi controllare qui che non si sa mai con me ok l'ultima è la cacchina rossa e beige vediamo pronti partenza vediamo se chiudiamo in bellezza o no wow wow che bella bella quasi più che san valentino sembra da un po' da halloween però è bellissima e si che le ho fatte vedete io le ho fatte nella stessa identica maniera probabilmente o no non lo so si no boh non vuole dire però devo dire che quella fucsia mi piace di più eh anche se questa qua ha dei delle note dark molto molto bene perfetto quindi queste sono le creazioni che sono uscite per san valentino ho voluto sperimentare un sacco e wow sono veramente super soddisfatta di queste creazioni a te piace un pomettino sei soddisfatto grazie pomettino quindi se hai voglia per favore dimmi qual è la tua preferita l'orsetto eh si l'orsetto merita tutte le tue attenzioni pomettino è veramente bellissimo però a me ha colpito incredibilmente questo cuore quando l'ho tirato fuori quindi io dico questo cuore qua sarà un po' difficile adesso capire qual è la vostra preferita essendo che se mi dite il cuore è la mia preferita ok uguale dei tanti quindi ingegnatevi un attimo farmi capire qual è la vostra preferita ok perché è un po' difficile questa volta effettivamente molto molto bene quindi vi ricordo instagram e link amazon già nell'infobox very very well e niente pomettino saluta bravo io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao